Musica Per realizzare la nostra impresa Ci siamo spinti nel deserto di Merzuga, uno dei luoghi più impervi del pianeta, situato 600 chilometri a est di Marrakesh. Una location tanto suggestiva quanto problematica per un progetto così ambizioso. Un team di oltre 40 persone, tra ingegneri, meccanici e costruttori, ha lavorato duramente realizzando in tempo record un'opera senza precedenti. Ogni aspetto, dall'ampiezza della carreggiata all'angolo di curvatura delle varianti, è stato riprodotto nei minimi dettagli. Mi sembra di chiudere gli occhi e correre come a mondo. Che spettacolo ragazzi! Come l'originale in Italia, anche l'autodromo di Monza Sahara ha il suo paddock, ovviamente in versione off-road. La nuova BMW X5 è pronta. Benvenuti in pista! La nuova BMW X5 è pronta. La nuova BMW X5 è pronta. La nuova BMW X5 è pronta. Ancora un'unico di che si fanno bene. Per me, la C5 è pronta. Ho lavorato moltissima in una zona inesera, ma non ho un po' di più che come questa prima. È assolutamente fantastico. to do. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.